Ma questa enorme bolla del podcast si sta sgonfiando? Di nuovo, ciao a tutti e bentornati su questo canale. Come sempre vi do il benvenuto. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, sia che lo stiate vedendo tutto fino alla fine, anzi vi consiglio di vederlo fino alla fine questo video, sia che lo vediate a pezzettini. Sai, metti in pausa, faccio una cosa, vado a fare pipì. Va bene, grazie per essere qui e grazie per il sostegno che mi state dando. È sempre molto ben accetto. Oggi parliamo di podcast e di questa bolla che sembra si stia sgonfiando. Ascoltate e guardate questo video fino alla fine perché insomma approfondiremo un po' l'argomento. Prima però, come sempre, vi ricordo di dare un supporto a questo canale, così come state facendo, se siete arrivati adesso su questo canale per caso, insomma, sostenetelo con un bel pollicione, del quale sono sempre molto grato, l'iscrizione se vi interessano gli argomenti e poi il campanellone per attivare tutte le notifiche ed essere avvisati sui prossimi video che arriveranno. Allora, parliamo di podcast. Beh, insomma, il podcast sembrerebbe dar molto fastidio ai media, quelli tradizionali. È un po' l'on demand dell'audio. Anche in Italia, man mano che si va avanti, c'è un'espansione di questa forma di fruizione dei contenuti audio, non solo, ci sono anche quelli video, ma parliamo di quelli audio. Cosa sta succedendo? Come sempre, il tutto arriva dall'America. Vi ricordate il 2008, la Lehman Brothers, il casino che è scoppiato? Dall'America è partita. E vabbè. Comunque sia, in America, il podcast sta subendo uno scossone incredibile. Attenzione però, non in termini di ascolto, che anzi sono aumentati del 20% rispetto al 2021. Nel 2022 c'è stato un incremento degli ascolti, delle persone che hanno seguito i podcast, stiamo parlando dell'America, che hanno seguito i podcast rispetto al 2021. Quindi c'è un aumento. Che cosa succede però? Come mai c'è un problema legato al podcast? Il problema è legato agli introiti pubblicitari o dagli abbonamenti alle varie piattaforme per poter soffrire di quella serie, di quel personaggio molto importante. Insomma, sembra che le persone non siano più intenzionate a spendere dei soldi da investire per creare appunto un abbonamento a uno di questi canali. E allora che sta succedendo? E sta succedendo che tutta la situazione va rivista, assolutamente. Pensate che parlando di Spotify, ma non è il solo Spotify, insomma sono tante le piattaforme che hanno investito in questa forma di distribuzione dei contenuti multimediali audio, ha fatto un investimento importantissimo. Si parla di 200 milioni di dollari per poter acquisire altre aziende che si occupavano di questo settore. In più ha dato, in esclusiva ovviamente, dei compensi milionari, ma milionari veramente. Si parla di 200 milioni per avere quel personaggio, 60 milioni per avere quell'altro in esclusiva che creassero dei contenuti podcast. Addirittura c'è stato anche Obama, tanti personaggi che magari con il podcast c'entrano poco, ma che comunque hanno ricevuto anche dei soldi per poter essere ospiti di una serie piuttosto che di un personaggio famoso. E allora Spotify adesso sta riducendo un po', sta cercando di renderlo sostenibile perché non può spendere tutti questi soldi a fronte di mancate entrate pubblicitarie che lo fanno stare in rosso. Cioè il bilancio di Spotify sul podcast è completamente in rosso, c'è il segno meno davanti. Quali sono i motivi che spingono le persone a non amare più il podcast? Vi ho detto all'inizio che anzi l'affezione nei confronti del podcast è anche aumentata più 20% nel 2022. E allora che cosa sta succedendo? Sta succedendo, come sempre, che quando arriva o quando si fanno grossi investimenti su un media come il podcast, all'inizio c'è l'euforia di scoprire i vari canali, le varie offerte insomma. E siccome parliamo di abbonamenti a un canale per poter seguire quel podcast, le persone che facevano all'inizio si iscrivevano dappertutto, ma sì questo qui andiamo e mi iscrivo e quindi pago un abbonamento e pago l'abbonamento di là, pago l'abbonamento di là, poi però diciamo che si sono stancati di spendere dei soldi inutilmente. Le spese cretine le chiamano, in una traduzione ovviamente italiana, spese cretine che non vogliono più sostenere e allora i contenuti gratuiti, quelli vanno da sé, ma sapete che il gratuito non ha limiti, può andare sempre che l'offerta sia interessante, ovviamente va che è una meraviglia, ma le offerte a pagamento hanno subito un rallentamento in alcuni casi, alcuni stop importanti, addirittura alcuni contratti sono stati risolti, alcuni show che esprimevano la loro creatività con il podcast sono stati chiusi, questo perché? Perché le entrate pubblicitarie non sostengono le spese che sono state fatte e allora c'è una revisione di tutta la spesa e soprattutto del business plan che nei prossimi mesi, nei prossimi anni dovrà essere riveduto e corretto a ribasso proprio perché se è vero che l'ascolto aumenta il problema delle entrate è diminuito e allora non è più sostenibile. Che cosa ne pensate voi del podcast? C'è da dire che intanto se avete qualcosa da aggiungere sul podcast, commentate questo video, insomma ci confronteremo, c'è da dire però che in generale in America quanto in Italia, in America come sapete inizia sempre tutto prima, ma anche in Italia il podcast non ha mai avuto quel picco eccezionale che lo abbia fatto svettare sopra ogni cosa e allora è ancora in attesa di raggiungere quel picco e soprattutto lo raggiungerà alla, insomma considerando le cose che vi ho detto e che stanno accadendo in America? E questo non lo sappiamo. In Italia va bene però ancora stenta un pochino, ecco, quindi c'è da dire che questa bolla non dico che sia scoppiata ma sicuramente sia un po' sgonfiata, sempre per quanto riguarda gli introiti della pubblicità e degli abbonamenti. Insomma le persone prediligono il gratis, ma dai soltanto che considerando alcune offerte che sono molto molto valide, molto professionali, che hanno un come dire un budget produttivo importante, hanno bisogno anche di incassare dei soldi, così come le piattaforme come Spotify e ripeto non soltanto quella, hanno bisogno di far entrare dei soldi a fronte dei tanti investimenti che sono stati fatti. Nei prossimi anni si riduceranno sicuramente i compensi che verranno dati ai personaggi cosiddetti famosi e soprattutto si dovrà rivedere un po' tutto il sistema in funzione appunto di questa flessione commerciale che c'è stata. Che cosa ne pensate voi? I podcast li seguite? Seguite quelli gratuiti o quelli a pagamento? E quelli a pagamento pagate volentieri, insomma, se avete qualcosa da dire in merito a questo commentate questo video così insomma ci confrontiamo e vediamo un po' più o meno qual è la situazione. Va bene, intanto se la bolla del podcast è in flessione un po' si è sgonfiata noi ci rigonfiamo belli tronfi e vi dico che se sosterrete questo canale beh avrete fatto una cosa molto bella almeno per quanto mi riguarda e della quale vi ringrazierò sempre con un bel pollicione che è sempre molto gradito, l'iscrizione se vi interessano gli argomenti e soprattutto il campanellone che attivando tutte le notifiche vi avviserà ogni volta che arriverà un nuovo video. Come sempre vi ringrazio e appuntamento alla prossima, sempre qui, ciao!